Fai almeno una volta al giorno qualcosa che ti spaventi. Oggi parliamo di gestione della paura quando si ha un'attività, quando si è freelance, quando si ha un business e ti svelo subito un qualcosa. La paura non passerà mai. Una volta, seguì un'intervista e un miliardario disse che anche lui, nonostante tutto quello che avesse raggiunto, ogni giorno aveva paura. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo imparare a gestire la paura e non farci sopraffare dalla paura o fermare dalla paura. In questo video ti voglio raccontare quello che faccio io, quello che ho fatto io nel mio percorso, che mi ha aiutato per gestire la paura e per riuscire in qualche modo a superarla o comunque non farmi fermare dalla paura. Iniziamo! Prima cosa da fare? Seguire l'ispirazione unita all'azione continua. Cosa voglio dire con questo? Se oggi non hai raggiunto nella tua attività quello che desideri, molto probabilmente ti trovi in una di queste tre situazioni. Hai solo bisogno di tempo per raggiungere i tuoi obiettivi? Oppure devi modificare il modo in cui guadagni? Oppure ancora devi definire in modo chiaro la tua strategia di business? Questo è fondamentale, sono tre aspetti fondamentali che devi considerare e quando qualcosa non va verosimilmente non è che sei sbagliato tu o gli altri ce la fanno e tu non ce la farai mai, ma una di queste tre variabili o più di una di queste tre variabili sono da migliorare. Quindi cosa devi fare? Se quello che stai facendo è quello che ti ispira davvero e quello che ami, allora pensa se è una questione di tempo, se devi trovare un altro modo per guadagnare con quell'attività che ti piace, perché ci sono tantissimi modi con cui puoi guadagnare. Io parlo di strategie, di marketing, di business, posso creare un canale YouTube e guadagnare da YouTube, posso creare dei videocorsi, posso vendere consulenze, posso fare tantissime cose per guadagnare. Quindi sicuramente anche nel tuo caso potrebbero esserci diversi modi nell'ambito della tua attività per poter guadagnare. E poi altra cosa da prendere in considerazione è avere una chiara strategia di marketing da seguire, che non vuol dire fare quello che fanno gli altri, ma vuol dire trovare il tuo modo per fare marketing. Se quello che stai facendo è quello che ami davvero, continua, però poi agisci, perché è l'azione continua che ti farà raggiungere il risultato. Altra cosa fondamentale nella gestione della paura e poi ci addentreremo negli altri punti continuando a guardare il video, tutti altrettanto importanti e correlati tra di loro, ma adesso passiamo alla programmazione. Più programmi e gestisci le tue attività e sai quello che stai facendo, cerchi di capire perché qualcosa è andato bene, perché qualcosa non è andato come ti aspettavi e allora cerchi di aggiustare il tiro, più capisci come farcela e di conseguenza gestirai in modo migliore la paura. Quando invece non conosciamo qualcosa e lavoriamo a vista, non programmiamo, allora è probabile, è molto probabile che avremo molta, molta più paura. E adesso ti chiedo, come stai messo ad autostima? Perché molte volte si ha più paura quando abbiamo un'autostima bassa e quindi non riusciamo a gestire la nostra paura e ci facciamo sopraffare dalla paura. Io in questo caso sono anch'io in work in progress e voglio darti tre consigli. Il primo è quello di leggere dei libri specifici sull'autostima e soprattutto di mettere in pratica se ci sono degli esercizi da fare. Un libro che ti consiglio che mi è servito è i sei passi dell'autostima. L'altra cosa che ti consiglio è di continuare ad agire, sbagliare e continuare ad agire perché in questo modo allenerai il muscolo dell'autostima. E terzo consiglio se proprio hai un'autostima sotto i piedi, se proprio non ce la fai, capisci che è quello. Il punto che dovresti realmente migliorare allora rivolgiti a un professionista perché è fondamentale quando si ha un'attività, quando si lavora in proprio avere una buona autostima, altrimenti è troppo difficile. E collegato all'autostima per gestire la paura smetti, smetti subito, promettimelo di non guardare più gli altri. C'è un momento in cui iniziamo un'attività che magari guardiamo che cosa fanno gli altri, poi quel tempo finisce, smetti di guardare gli altri se questo ti provoca ansia, ti provoca più paura, ti fa credere ancora di più di non potercela fare. I social poi non sono la realtà e molte volte vediamo solamente quello che gli altri vogliono farci vedere della loro vita. Non confrontare mai l'ultima pagina del libro di qualcuno o una foto patinata di qualcuno messa lì appunto perché siamo sui social con la prima pagina del tuo libro, della tua storia che stai scrivendo e con il tuo post, il tuo primo post sui social, ok? Sbagliare non è il male. Nella nostra società si demonizza chi sbaglia, si ha paura di dire di aver sbagliato, si ha paura di dirlo a noi stessi, si ha paura che gli altri vedono che noi abbiamo sbagliato, ma chi non sbaglia è solamente chi non ce la fa, quindi sbagliare per migliorarsi è fondamentale, sbagliando anche capirai che in fondo non bisogna avere così paura, ok? Innamorati del processo e non del risultato perché se punti il risultato continuerai ad avere paura appena qualcosa non va come tu desideri. Se invece ti concentri sul processo, su quello che fai nel singolo giorno, ti innamori di quello che fai perché ami quello che fai, scelto di fare quello che fai perché ti piace e ti concentri su questo, allora successivamente arriveranno i risultati e piano piano gestirai in mondo migliore la paura perché sai nel profondo che è quello, quella è la tua missione. Altra cosa super utile, leggi le difficoltà di chi è iniziato. Ci sono tantissimi libri, puoi leggere degli articoli di persone che hanno superato le tue stesse difficoltà, che si trovavano in situazioni disastrose e poi ce l'hanno fatta. Questo può aiutare molto per capire che non si è soli in questo percorso perché molte volte quando si lavora in proprio ci si sente un po' isolati e nessuno ci capisce, quindi confrontarsi con chi ce l'ha fatto, con chi ha superato le nostre stesse difficoltà può essere utile e può far passare un po' la paura. Fai una pianificazione finanziaria della tua attività. Anche in questo caso pianificare finanziariamente la tua attività ti aiuterà ad avere meno paura perché sai quello che stai facendo, sai dove vuoi arrivare e allora gestire, imparare a gestire, capire le difficoltà che hai, capire perché non ce l'hai fatta e allora come puoi migliorarti. Migliorerà anche il percorso e ti aiuterà a gestire la paura. Verifica la tua visione di vita e di business. Può sembrare questa una cosa banale o che non c'entri niente con la gestione della paura, ma molte volte abbiamo paura perché non siamo sicuri del nostro percorso, non siamo sicuri di quello che stiamo facendo, quindi chiarirsi le idee di dove vogliamo essere, di dove vogliamo arrivare. La nostra visione di vita e di business è cruciale per capire che non possiamo avere paura se quella è realmente la nostra strada. Una delle più grandi scoperte che un uomo può fare, una delle più grandi sorprese che può avere un uomo è scoprire di poter fare quello di cui prima aveva paura, Henry Ford.